la strada verso il calvario è veramente difficile gesù fa tanta fatica la folla attorno gli dice di tutto ma c'è anche un gruppo di donne che lo avevano seguito tenevano a lui provano ad avvicinarci ad avvicinarsi ma i soldati li allontanano e loro provano ad aiutarlo lui si ferma sotto il peso della croce con il grande dolore e dice non preoccupatevi per me pensate piuttosto a tutto quello che sta succedendo e le consola e le consola e gli dà forza ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce è redento il mondo diciamo grazie signore gesù grazie signore gesù perché nonostante tutto vuoi consolarci sempre grazie signore gesù perché nonostante tutto pensi a noi sempre grazie signore gesù perché nonostante tutto ti importa sempre di noi grazie signore gesù